Ciao ragazzi! Ciao a tutti e benvenuti nel nostro van! Oggi vi facciamo vedere la nostra nuova casa con cui stiamo girando le Americhe da nove mesi. Siamo Serena e Carlo e in questo video vi mostreremo la nostra casa su ruote, un Fiat Ducato che abbiamo camperizzato con amore a Milano e abbiamo spedito in Canada. Ci ha portato fino in Alaska e ora stiamo viaggiando verso sud in direzione Patagonia. Quando abbiamo cominciato a pensare a come volevamo questo van, sicuramente volevamo un mezzo molto autonomo, indipendente perché avremmo fatto sempre un campeggio in libera e non ci saremmo mai fermati nei campeggi. Il progetto del van è veramente molto semplice, si divide in tre zone, uno spazio di guida, uno spazio dove c'è la cucina e uno spazio per la notte. E queste tre zone hanno le stesse dimensioni. Questa è la nostra zona notte che adesso vi faremo vedere il nostro letto affacciato sul mondo. Per il letto, per non sacrificare spazio, dato che Carlo è alto 1,93, abbiamo deciso di non isolare con materiale isolante e perline, ma di usare il sughero, infatti questo lato del letto è largo, 1,96, il sughero è comunque isolante ed è anche bello esteticamente. Per coprire la lamiera, questo piccolo spazio, abbiamo trovato della carta da parati che era della prima casa dei miei nonni ed era di questo colore, tra l'altro, quindi è stato bellissimo utilizzare questo materiale e l'abbiamo messo per coprire tutte le parti con la lamiera anche sulle porte. Questo è molto comodo, ce l'ha regalata una nostra cara amica e qua teniamo tutte le cose che ci servono quotidianamente, come lo shampoo, creme. Qua c'è una tasca molto grande dove ci stanno altre cose. Questo è il nostro guardaroba, abbiamo il guardaroba invernale sotto con anche le coperte pesanti e il guardaroba estivo sopra con le cose più leggere estive. Mentre qua teniamo tutte le cose che usiamo più spesso, quindi è più facile da aprire e chiudere. E qui sotto abbiamo la cassetta degli attrezzi e due scatole, una per il cibo, per le scorte di cibo e l'altra per pezzi che ci servono per il van, manutenzione, un po' di cose che possiamo lasciare di dentro. Questa è la nostra bombola che usiamo per cucinare di propano, sono 8 kg, solitamente ci dura più o meno due mesi ed è saldamente ancorata al van con questa cinghia. Ovviamente quando finiamo di cucinare chiudiamo sempre la valvola. Abbiamo ricavato con del compensato intorno al passaruote una cassetta dove possiamo introdurre degli oggetti. Questa è la doccia, la nostra doccia esterna che utilizziamo quando fa caldo, è molto comoda, è collegata al lavandino e di solito la posizioniamo sopra il van. Questi sono dei mobiletti in cui teniamo pentole, sale, olio, salse. E questo è il secondo mobiletto in cui abbiamo messo due scatole, una per uno e dentro mettiamo sapone, prodotti vari. Qui sopra abbiamo un oblò che serve per far entrare l'aria quando attiviamo il ventilatore e si apre e si chiude molto facilmente, manualmente. Per separare la zona di guida dal resto del van ho fatto questa tenda, da un lato è nera, dall'altra con le foglie e si può inserire un materiale per isolare ulteriormente per le giornate più fredde. Abbiamo messo un filo e dei gancini per agganciarla. Questo è il nostro tavolo, è molto comodo perché si tira fuori così, con questa gamba. Mentre qui abbiamo tutti gli attrezzi che ci servono per il van, la chiusura è molto comoda perché basta premere per bloccarlo. E qui sotto c'è un bagno chimico estraibile di emergenza. Nella cucina il lavandino che abbiamo installato è un lavandino che ha un diametro di circa 38 cm. L'abbiamo voluto grande proprio per ottimizzare lo spazio. Abbiamo installato anche un dosso a sapone qui e poi un rubinetto molto comodo perché se lo apriamo abbiamo due uscite. Una così e una col docino. Accanto al lavandino abbiamo installato una cucina della Beko delle misure di 55 cm x 35 cm che monta due fuochi, uno più grande e uno più piccolo. Dietro la cucina abbiamo installato una barriera in alluminio che protegge le perline in legno dal calore emanato dalla cucina. Abbiamo anche la scintilla grazie all'inverter che ci consente di accendere comodamente i due fuochi. Questo è il nostro primo cassetto e qua dentro abbiamo posate e cose che usiamo per cucinare, power bank, cavi. Questo è un posapentole che ci ha fatto mio nonno con gli scarti delle perline che abbiamo usato per rivestire il van. Mentre nel secondo cassetto abbiamo una pentola, lo scolapasta, i piatti, il mini-pimmer che usiamo spesso per fare zuppe frullate e questi attrezzi che usiamo per fare la pasta fatta in casa che ogni tanto abbiamo fatto ed addirittura lo stampino per i ravioli. Al di sotto dei cassetti c'è il frigo, apriamo un po'. Eccolo qua. Il nostro frigo è un frigo a compressore Mobi Cool FR40 che ci ha un'autonomia di circa 7 giorni. Ecco qua. Qui mettiamo tutte le cose che necessitano di essere refrigerate. Può essere anche un congelatore, può scendere fino a meno 10 gradi, però ne lo usiamo come frigorifero tenendolo a 4-5 gradi. Se apriamo l'antas di sinistra del mobile della cucina, all'interno c'è tutto l'impianto idraulico che ora vi spiego. Qui a sinistra abbiamo montato una pompa a 12 volt che solleva 4 litri al minuto. Lo schema idraulico è semplicissimo perché troviamo un tubo che sale fino al lavandino e un altro tubo che invece va alla doccia esterna, con due valvole per regolarne la chiusura o l'apertura. L'acqua viene prelevata da una tannica di carico da 22 litri che può essere sostituita con un'altra che abbiamo qui. Sotto il letto ce ne sono altre due. Sotto al lavandino l'acqua va a finire in una tannica di scarico che verrà svuotata dove è consentito. Inoltre qui troviamo un cestino nella spazzatura. Quando siamo in movimento, leghiamo il tutto con una corda elastica. Nel mobile della cucina abbiamo installato un pannellino di controllo molto comodo che ci consente di controllare tutti i dispositivi installati nel nostro van. Il primo interruttore accende le due luci al di sopra del nostro letto. Il secondo interruttore, le quattro luci della cucina. Il terzo interruttore, l'aspiratore e la ventilazione. Il quarto interruttore, la pompa dell'acqua. E il quattro interruttore, sempre acceso, è il frigorifero. Al di sotto troviamo una porta a 12V in cui possiamo attaccare un ventilatore. Al centro un dispositivo molto comodo che è un voltmetro che ci consente di sapere che voltaggio sono le nostre batterie in maniera tale da sapere se sono cariche o scariche. A destra, infine, un'ultima porta che contiene due porte USB molto comode per caricare i nostri cellulari. Per convogliare i fumi derivanti dalla cucina abbiamo installato una turbo vent proprio sopra la cucina che riesce ad avere sia un'aspirazione che una ventilazione. L'aspirazione è da circa 10 metri cubi al minuto ed è gestita anche grazie al secondo bloc che montiamo sopra il letto. Il turbo vent ha anche un termostato dove possiamo regolare la temperatura se vogliamo lasciarlo acceso anche durante la notte. Vediamo brevemente l'impianto elettrico. Il nostro impianto elettrico è formato da due batterie AGM per una capacità totale di 200 Ah. Le batterie si ricaricano sia attraverso l'alternatore del nostro furgone quando siamo in marcia, attraverso un relais e sia attraverso il pannello solare che vi spiegherò più avanti. La fase di carica e scarica delle batterie è gestita dal BS80 che fa anche da parallelatore ed ha un controllo in remoto che ci consente di staccare le batterie qualora non usassimo il van per parecchio tempo. Per quanto riguarda lo spazio sotto i sedili abbiamo sfruttato ogni centimetro. Infatti sotto il sedile passeggero abbiamo realizzato una semplice scarpiera dove mettiamo tutte le nostre scarpe e sotto l'altro sedile invece riponiamo dei generi alimentari che ci servono nell'immediato. Sotto il sedile di guida è invece ubicata la seconda batteria servizi collegata all'impianto elettrico. Abbiamo approfittato dello spazio tra il mobile della cucina e il sedile di guida per installare il nostro inverter un inverter Dometic da 150 W a onda pura. All'inverter abbiamo la possibilità di collegare 6 prese di corrente a 220 V a cui colleghiamo il computer o il caricabatteria del drone. Ci sono anche 3 fori da reazione per favorire il ricambio d'aria dove c'è il frigorifero. Inoltre al mobile della cucina qui è montato il regolatore di tensione del pannello solare e il controllo in remoto del BS80. Infine per bloccare i cassetti ci siamo inventati un metodo molto semplice attraverso una catena e dei ganci. Ma passiamo a vedere che cosa abbiamo all'esterno del nostro van. Abbiamo la possibilità di installare un tendalino molto semplice che ci siamo realizzati da noi utilizzando due aste telescopiche e un telo forato. Il telo è ancorato a dei ganci presenti sul Ducato. Questo sistema ci consente di montare e smontare il tendalino in circa 5 minuti. Inoltre sul tetto del Ducato abbiamo installato un pannello solare da 120 W policristallino che si va a collocare tra i due oblò. Questo pannello si sta rivelando una scelta giusta e dimensionata correttamente per i nostri utilizzi durante questo viaggio. L'isolamento è realizzato su tutto il van con dei pannelli di polietilene su cui viene applicato uno strato di Reflectix, un materiale riflettente che serve per riflettere il calore interno. Abbiamo lasciato poi due centimetri d'aria e successivamente installato le perline in legno che sono avvitate ai montanti del van. Il pavimento è realizzato ponendo uno strato di 3 mm di polietilene su cui è appoggiato uno strato di OBS ovvero sono foglie di pioppo compresse che servono molto per prevenire l'umidità sul quale abbiamo incollato poi del vinile che ha come motivo il legno. Per quanto riguarda la reazione abbiamo installato due oblò un turbovent e un oblò sopra il letto in modo tale che il turbovent una volta acceso faccia del ricircolo e ci aiuta a cambiare l'aria molto in fretta. Per quanto riguarda l'illuminazione abbiamo sei faretti da 2 watt sono faretti led a luce calda poi abbiamo una luce esterna da 60 watt collegare all'inverter quando vogliamo illuminare l'esterno. Ci stiamo affezionando sempre più a questo van perché ci sta portando in posti meravigliosi e ci ha permesso di raggiungere anche posti molto isolati. Diciamo che non è il mezzo perfetto perché non esiste ma a noi ci ha colpito fin dall'inizio per il colore verde militare e perché era piccolo, compatto pensando che potesse arrivare davvero dappertutto. Non ha 4 ruote motrici però l'abbiamo portato in strade assurde devo dire negli Stati Uniti e si è comportato sempre benissimo. L'abbiamo portato a meno 22 e ha resistito a retto alla grande in Canada e adesso siamo fermi da due mesi al caldo in Yucatan e si sta comportando molto bene anche qua perché è autonomo. Inoltre ci siamo fatti aiutare per l'installazione degli oblò e per l'impianto elettrico e la realizzazione delle mobili della cucina che richiedeva dei tali precisi che solo un falegname poteva fare. Per il resto abbiamo fatto tutto noi compreso il progetto che è di nostra opera inventiva e devo dire che fin dall'inizio quando abbiamo cercato di pensare il nostro van volevamo un mezzo autonomo e indipendente. Questo furgone è un Fiat Ducato 244 del 2004 l'abbiamo comprato usato e siamo addirittura i sesti proprietari ma finora si è comportato benissimo. È stato anche il primo e unico van che abbiamo visto e ce ne siamo innamorati subito. Lo abbiamo camperizzato in tre mesi durante i weekend e durante le festività i miei nonni ci hanno messo a disposizione il loro garage dove lo abbiamo camperizzato e mio nonno ci ha dato anche qualche dritta. Durante le pause tra i lavori mia nonna ci ha fatto dei pranzetti veramente speciali. Molti ci dicono che questo van è piccolino sì, in effetti è piccolo però noi l'abbiamo scelto apposta per questo viaggio perché ci consente di entrare anche in città in parcheggi coperti e ci permetterà di metterlo in un container quando dovremo spedire il van dalla Panama alla Colombia. Quando siamo dentro al van o dormiamo, quindi siamo stesi oppure cuciniamo e mangiamo sempre da seduti quindi il fatto che non possiamo stare in piedi non ci pesa particolarmente. Bene ragazzi, il giro del nostro van è finito. Speriamo che questo video vi sia stato utile soprattutto per chi si vuole approcciare al mondo della van life che noi abbiamo trovato fantastico. Ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.